Ciao a tutti ragazzi da Zebra. Parla il presidente Gravina, non Zebra, il presidente Gravina, in cui le sue parole, ad essere sincero, politichesi, ma in sostanza mi trovano totalmente d'accordo. In cui dice che il presidente, la responsabile della Liga Spagnola, si debba vedere i cazzi di casa propria, visto che in casa ha una questione barcellona, che veramente lì siamo oltre la normalità assoluta, siamo oltre migliaia di chilometri di anni luce dalla normalità assoluta. Real Madrid, e possiamo aggiungere altre squadre della Liga Spagnola. Quindi, come dice Gravina, lui dice che può pensare, ma come dice Zebra, lui deve pensare i cazzi di casa proprio sua. Va bene? E non venire a fare le pulce a casa nostra. E lì mi è piaciuto tantissimo. Questo che riguarda il Mila, l'Inter, il Napoli, qualsiasi squadra italiana, io la difendo a spada tratta. Non uno che fuori va a giudicare gli altri, quando in casa sua c'è il marcio più assoluto. Primo. Secondo, Gravina dice che in questa situazione possono, vi dico, possono essere coinvolti altri soggetti. Quindi vuol dire che non solo la Juventus è coinvolta in questa vicenda. Non solo la Juventus, possono esserci altri soggetti. Quindi, non è che sta dicendo che è colpa anche di... Ma tutto ciò è un'usanza ormai esplicitata da tutte le squadre. Se non tutta al 100%, ma al 90% usano questi metodi di plusvalenze e quello che è successo poi durante il Covid. Quindi il presidente Gravina, non Zebra, il presidente Gravina. Questa la dice lunga, ragazzi, quando vi ho sempre detto che la Juventus è normale, fa clamore. Il nome Juventus non è il nome Inter-Milan. Ma che cosa stiamo parlando? È una squadra che ha più tifosi in Italia. È la squadra che ha a livello internazionale, mondiale. Quindi il suo nome fa più audience sui giornali, su YouTube, televisori. È normale. Però il presidente Gravina lo ha detto e sottolineato. Occhio che possono essere coinvolti altri soggetti. E questo è molto importante, ragazzi. Molto, ma molto importante. Poi ha detto che alla fine sono a stretto contatto con la UEFA, la FIGC. Seguiranno il processo e poi si terranno le conclusioni. Ma fine processo! Non neanche è cominciato. C'è molta gente che dice che la Juventus sono stati rinviati a giudizio. Bugiardi! Bugiardi! Ancora il rinvio a giudizio non c'è stato perché non c'è stata ancora neanche una difesa. Neanche la difesa. L'accusa è stata fatta. Ma non c'è stata difesa. Quindi non ci può essere un rinvio a giudizio. Informatevi! Con questo, con questo, parlate di meno. Capite un po' più i fatti. Invece di andare perché siete solamente tifosi da quattro soldi. Tifosi da quattro soldi. Che pensano solo ad attaccare la Juventus. Questo. E con questo vi saluto. E vaffanculo a tutti coloro che infangano la Juventus. E non riflettono su quello che dicono. Non riflettono. Occhio! Possono essere incluse altri soggetti. Ciao!